una rondine e l'altra un cipi di merlo ma ci sono ma cipi di merlo fermo 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 fermi fermi tutti a due allora rondine prima cipi di merlino qua che se no ferma rondine fuori 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 ma che bello data ma vuoi ma volete non mangiare vai cipi di merlino libero anche lui grazie ho salvato due ma pesce che mi avevo liberato da ferocchi mi avevo liberato da un bel ma tanto non è riuscito non è riuscito è riuscito Grazie a tutti.